Olè, olè, dovremmo già essere in diretta, siamo in diretta, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Saluto il nostro super ospite Bernardo che è con noi. Ciao, con voi amiche amici di Damanhur. Bravo, con voi, con voi. Non te l'aspettavo. Non me l'aspettavo, colpo di scena. Allora, come sempre, l'inizio è la fase di aspetta, che si autosentiamo perché mi sono aperto la diretta anche di là. Ok, perfetto, risolvi. Meglio prevenire che curare. Allora, fase di atterraggio. Di solito i primi minuti sono sempre in attesa che ognuno di voi si connetta e riusciate a sentirci. Infatti datemi qualche feedback, per favore, nella chat, se ci sentite, tutto ok, così vedo che la diretta è partita per bene e mi aiutate. Dico due informazioni mentre aspettiamo che state arrivando. Come vedete, c'è un ospite e che ospite. Il nostro super Bernardo, noi siamo anche amici, quindi ci divertiamo un po' a prenderci in giro e a, insomma, a introdurci in queste serate. Il tema è un temone, potremmo dire, temone della felicità. Parleremo di felicità, sentirci felici, ma anche sicuramente del sentirci tristi. Insomma, parleremo di vita. Ecco, questa sera introduciamo un nuovo format e allora ho scelto infatti una persona speciale da avere con me. in questo appuntamento, una persona che vive di storie anomale, diverse, che ha fatto della sua vita una storia completamente fuori dal comune e quindi non potevo che invitare il super Bernardo. Poi, dai, ci dirai due cose su. Io qualche domanda... Ma io non l'ho preparato. Io pensavo stasera se parlava della formazione del Fantacassi della prossima settimana. Non devo dire la felicità, ho sbagliato. Hai sbagliato diretta. Ma forse la felicità è anche connessa a questo. Chi lo sa. Può essere, può essere. Intanto le persone salutano, abbiamo anche qualcuno da Genova. Insomma, a noi piace di solito scrivere da dove ci troviamo. Quindi, se volete scrivere in chat, Samuel, Inna, Vincenza, Sergio, dove siete? A noi ci fa piacere. Così, consapevolizziamo di essere una rete di ricercatori, curiosi, persone che è sparsa un po' in tutto il mondo. È arrivato anche il grande Nicola, che ci segue dai tempi d'oro delle prime dirette. Ciao, Nicola. Allora, con te, Nicola. Vi dico due parole per chiedere che, secondo me, siamo pronti a partire. Introduco questo format. Intanto siamo all'episodio 1. Io avevo anche preparato... Ci sono andato a comprare il Chuck, quello del cinema, che si dà quando parte, no? Il Chuck, ho comprato i nastri colorati e mi sono dimenticato il Chuck in auto. Quindi non ce l'ho. Allora farò il gesto, no? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Via. Buona la prima. Ragazzi, primo episodio del nuovo format Parliamone Apertamente. Ovvero un format che inizia, come da Ammanur, per cercare di avvicinarci sempre di più a temi che riguardano la vita di ogni giorno. A quei temi che in qualche modo sentiamo il bisogno di parlarne, di trovare un contesto protetto, divertente, sano, profondo, in cui parlare di felicità, tristezza, solitudine, difficoltà, sfide. Insomma, siamo in un'epoca in cui siamo esposti a tante sfide. Siamo esposti a momenti di gioia, momenti molto duri. Il mondo stesso sembra attraversare crisi e momenti di profonda trasformazione. E quindi, perché non creare un territorio, un campo, una diretta, un format, un incontro in cui parlare liberamente di questi temi? In questo caso, io e Bernardo, ovviamente siamo, converseremo, sicuramente porteremo le nostre riflessioni, ma le vostre domande sono il centro di questa diretta. Noi vogliamo aprire uno scambio, una relazione con voi. Nel tempo troveremo anche il modo di far arrivare qualcuno di voi in diretta, chi lo vorrà potrà connettersi e troveremo il modo di farvi partecipare. Intanto, lavoriamo sulle vostre domande. Infatti, partiamo con un primo domandone. Io faccio ad ognuno di noi, quindi compreso me, compreso Super Bernardo, ma anche ognuno di voi. Quindi, manine sul telefono o sulla tastiera pronti a scrivere. Possiamo anche fare un respiro profondo, un respiro solo per... ... ... ... ... ... Cos'è per te, in questo momento, così di getto, la felicità? Cos'è per te la felicità? Scrivi una parola, un concetto, subito qua di getto nella chat, così che possiamo iniziare a scambiare. La prima cosa che ti viene, non serve un trattato filosofico all'Aristotele o alla Socrate. Cos'è per te la felicità? Ok? E con questa prima domanda, io prendo il nostro Bernardo, che è... Io pensavo che la domanda era chi sarà il prossimo conduttore del San Reo, invece no. Eh, ma... Quella... Quella tocca aprire. Io pensavo che faceva anche il tuo nome, invece niente, vabbè. Guarda che mi hanno contattato due volte. Allora... Fiorello, se ci stai seguendo, scrivici, perché noi aspettiamo te. Allora, qui abbiamo aperto con un domandone, altro che il conduttore di Sanremo, domandone pericoloso, io direi, perché chiedersi cos'è la felicità significa provare ad avvicinarsi a questa parola su cui ci hanno fatto anche film di ogni tipo, libri di ogni tipo, i filosofi ci hanno speso incarnazione a chiedersi cos'è la felicità. E qua, già nella chat, incomincio a vedere un po' di risposte, continuate pure a scrivere. E io... Bernardo, io... Io di te stimo tanto. Se non lo seguite, seguite il canale di Bernardo, perché lui viaggia e intervista persone che fanno esperienze di vite diverse, anomali, dei cambi vita. Io li chiamo così, dei cambi vita. Magari scelgono di lasciare tutto per andare a vivere in campagna, acquistare una casa in mezzo alla natura. Insomma, cambi vita importanti, in maniere diverse. Tu, anche viaggiando, conoscendo queste persone, facendo questo stile di vita, tu, quando... Quando è che non pensi al conduttore di Sanremo futuro, ma quando è che ti senti felice? Cioè, tu, quando ti senti felice? Allora, io ho accettato questa detta perché il tema è bellissimo. Queste domande... C'è una parte da di me che dice ma che cavolo posso dire? Che cosa posso dire? Perché, come hai detto tu, ci sono libri, persone... Cioè, di una saggezza che si sono esposti. Dico, che cavolo posso dire io, no? Quindi, quello che io posso dire quando provo la felicità, posso parlare che, per me, la felicità è tipo un pezzo del puzzle, no? E quindi ci sono tanti elementi che compongono questo pezzo del puzzle, no? La socialità, l'essere... Il ridere. Questa sera io spero, quello che spero, che in qualche modo... Esatto, noi siamo felici, quindi portiamo il sorriso, il divertimento, appunto la socialità, il contatto con la natura, l'essere grati, focalizzarsi su quello che si ha invece che su quello che manca, focalizzarsi su noi stessi, quindi ci sono tanti piccoli puzzle, piccoli pezzi del puzzle che vanno a comporre la felicità. E quello che voglio questa sera è che in qualche modo abilitiamo un pezzo del puzzle, che è il divertirsi, il giocare, il passare del tempo insieme, ecco. Ecco, c'è una roba che condivido, che ci accomuna e che sento forte anch'io e poi andiamo a vedere le vostre risposte e proprio l'umorismo e il gioco. Quando si riesce, nonostante siamo effettivamente anche in un mondo che ti mette alla prova rispetto a questa postura, a prendersi... un po' di fare un po' di autoironia, a prendersi un po' più con leggerezza, ma non perdere però comunque la forza per i propri sogni, la determinazione, cioè rimanere comunque, come dire, carichi rispetto alla propria vita, ecco, il gioco, il divertimento sono, secondo me, degli ingredienti fondamentali con cui far partire questa molla che è la felicità, che probabilmente scopriremo anche insieme, perché ci sono un po' di quiz, sorprese, giochi. Questa sarà una serata veramente anomala, è qualcosa che forse la felicità si costruisce, cioè si scopre, è indigenire. Non è qualcosa che magari ci accade, uno nasce e dice tac, come sono super felice. Forse sì, però poi nel mentre della vita la si perde, la si ritrova, la si riconquista, ma ci scappa un po' dappertutto. Io, vai, volevi dire qualcosa? Che dicono? No, voglio dire, che dicono i nostri amici, ci dicono cose molto interessanti e partirei subito da Sergio che dice apprezzare ciò che si ha. Apprezzare ciò che si ha, tanta roba, sicuramente in un mondo in cui è stimolato ad avere sempre di più. Io portavo una ricerca che ho letto poco tempo fa sull'America, che più o meno un americano è esposto tra le 400 e le 500 pubblicità al giorno, al giorno, stimoli che gli propongono di comprare cose. Quindi la difficoltà che ha una persona che sposta così tanti stimoli ti acquisto e puoi capire ma cosa veramente gli piace avere, cosa veramente gli interessa e quali sono i suoi bisogni autentici. Perché poi entri in quel caso in cui dici ma io ho l'ultimo telefono comprato, lo volevo davvero o l'ho comprato non so neanche perché o questo cambio di vita che ho fatto è perché lo sentivo o la moda mi ha portato a? Ecco, apprezzare ciò che si ha penso sia un percorso interessante perché porta a chiedersi veramente quello che ci serve e poi ad essere grati di quello che fondamentalmente poi ci rimane vicino al cuore, quello che veramente conta nella nostra vita. Vuoi puntare qualcosa su questo? Ma guarda, concordo con te. Gratitudine, nel senso no, alimentare la gratitudine, quindi adesso quello che si asumi c'è quello che manca. Ecco, gratitudine infatti è una parola che torna anche nei vostri commenti, c'è tanto anche il tema delle relazioni, quindi sentire amore intorno a me, relazionarmi con me stesso e con gli altri in maniera armoniosa, stare bene con me stessi, camminare con un'amica, quindi camminare con una persona. Leggevo oggi, in poche parole, ogni anno viene condiviso a livello mondiale una grande ricerca sulla felicità rispetto a qual è il paese più felice, ci si chiede qual è il paese più felice al mondo. Anzitutto, Damalo. Esatto, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, poi l'erato così. Poi l'erato. Ragazzi, purtroppo vince sempre il Nord Europa, ci battono sempre. Mi sembra che sia la Finlandia, non mi ricordo se la Finlandia o la Danimarca, ma, e dobbiamo dircelo tra di noi, queste, queste ricerche tengono ovviamente conto di aspetti che sono sicuramente importantissimi, ma poi faticano a scavare dentro la vita reale delle persone. Quindi, emergeva poi nell'approfondire da altri scienziati, psicologi, esperti, che le relazioni, quindi la qualità delle relazioni che le persone hanno col partner, con la famiglia, con gli amici, sul lavoro, e quella è la parte più grande della felicità che noi possiamo avere. I collaboratori, tutta questa rete di relazioni, lì è dove c'è il grande cuore della nostra felicità, che è poi quella grande diatriba anche filosofica, perché oggi nell'andare a scandagliare, oggi mi sono ripassato tante cose sulla felicità, quindi anche cose i vari filosofi hanno detto nel tempo sulla felicità, la grande linea sottile è tra la felicità personale e la felicità che riesci a donare agli altri, quindi quella che tu doni alla tua rete di relazioni e quella che tu riesci a donare a te stesso. Tu Bernardo, che anche hai organizzato da poco e organizzi spesso questi eventi dove tantissime persone si incontrano, ha fatto un sacco di giochi, di lineamiche, osservi questo aspetto, cosa noti rispetto alla felicità in quei contesti in cui ci si incontra? Ma guarda, la cosa che mi viene di interessante è che stiamo dicendo tante belle cose che sono tutte cose semplici alla fine, no? Il camminare con l'amica, il sorriso, lo stanzieme, no? Quindi tutte cose che non richiedono alla fine, no? Grossi scalate dei montagni, ma sono cose insomma molto semplici e sicuramente una di queste cose aveva delle relazioni, no? Sani, ora studi, studi, sono dei bellissimi talk, di una ricerca, di una grande università che si è chiesto qual è il fattore che più aumenta il benessere di una persona e le relazioni erano in qualche modo al primo posto, Ma questo è evidente, insomma, lo vediamo, no? Nelle differenze, ma anche basti pensare, no? Quando viviamo appunto magari un'esperienza, no? Con altre persone anche sconosciute che riusciamo a connetterci con le altre persone come il nostro, no? Normalmente vediamo meno il cellulare, no? Quindi in qualche modo ci godiamo le persone quando invece magari siamo, no? In metro, in altri luoghi magari tendiamo a prendere il cellulare perché magari non lo troviamo nell'altro, in qualche modo una connessione vera e autentica. Quindi invece quando c'è un'esperienza che può essere un corso, una camminata, un gioco insieme, quindi ti connetti all'altra persona genuinamente e autenticamente, allora ecco che avviene in qualche modo lo switch. Condivido. Condivido anche sul telefono, secondo me possiamo tornare dopo perché il telefono è un po' come il cibo quando uno è un poterista e che sfoga. il telefono sopperisce tanto alla mancanza di relazione, all'incapacità ad oggi poi di entrare in relazione. Voglio andare subito a gambatezza con un'altra domanda che faccio a tutti quindi anche qui vi chiedo respiro, tastiera alla mano e pronti a rispondere. Facciamo un bel respiro? Non sarà la domanda relativa al prossimo conduttore di Sanremo ma nella tua vita... Se Fedez e Chiera Ferragni si lasciano. Ah no, no, no. No, no, quello dopo. Forse si collegherà, avremo un collegamento in diretta anche con loro ma non possiamo arrivare fino a... fino a lì. Come vedete a noi ci piace scherzare, divertirci e questo secondo me è un grande ingrediente che fa sì che la follia scorra tra di noi domandone, domandone nella tua vita in questo momento quindi scrive anche qui liberamente la prima cosa che ti viene in modo da condividere e creare un campo qual è la cosa che senti che più ti allontana dalla felicità? Cioè qual è la difficoltà più grande che stai incontrando nel sentirti felice? Scrivi la prima cosa che ti viene in mente. Cos'è che ad oggi ti impedisce di essere felice? Cosa senti che ti impedisce di essere felice? La mancanza di una relazione, di qualcosa, la città in cui vivi? Scrivi la prima cosa che ti viene in mente che senti che ti impedisce di essere felice. Adesso, tra poco. Oh, bravo. Arrivano le prime risposte, bravo Sergio. Continuate a scrivere perché ora incominciamo ad entrare sempre di più dentro a questo tema. Quindi la cosa che senti che più ti impedisce di essere felice. Allora, su questo aspetto, caro mio amico Bernardo, siccome siamo anche più o meno coetanei, non mi viene... In realtà questo fenomeno ha poi contagiato tutte le generazioni attorno a noi perché c'è stato una, come dire, un effetto a macchia totale. intanto grazie per chi sta scrivendo, mi raccomando scrivete la cosa che più vi allontana dalla felicità. È il tema della performance, super performance, ovvero il fatto di essere competitivi, il fatto di essere in gara con gli altri, il fatto di avere tante call durante il giorno, tanti lavori, essere tanto occupati. Oggi portavo questo nome che io ho trovato almeno in due filosofi e ricercatori contemporanei che sono la Gancitano e con la Medici di Tlone che parlano dei bene stanchi. Cioè ad oggi essere stanchi ed essere affaticati è un sintomo di essere benestanti, cioè bene stanchi. Cioè più sei oberato dalla vita, più sei pieno di impegni, più hai tante cose da fare, più sei una persona di prestigio, più gli altri ti considerano un ganso, una persona che ha successo. Sicuramente lui è tanto successo perché lui non c'è mai, il weekend non c'è mai, non lo becchi mai, è sempre da fare, è sempre da qualche parte, ok? Io la sto estremizzando, però è vero, è vero. Tu anche che viaggi tanto, sei molto immerso, cioè ti dai da fare nel mondo digitale, YouTube, insomma sei in tutta questa dimensione qua e giri. Quanto vedi che il fatto di volersi riempire di cose, di essere costantemente ossessionato dai desideri, dai risultati, da raggiungere, quindi da avere questa felicità che un po' non arriva mai, perché tu ti affatichi e lei si allontana sempre di più, raggiungi una cosa e poi è sempre più in là. Tu come te la vivi? Perché questa è una cosa, è una cosa tosta. Come ti rapporti con questa cosa qui? ma a proposito della società della performance devo dire che invece questa serata io non so niente, cioè noi ci siamo proprio, io almeno non sapevo niente, ma volutamente perché è proprio l'opposto della società della performance, noi la società dell'improvvisazione e del flusso, quindi questo, questo è il primo cosa che voglio dire. Ma sicuramente quello che tu dici in molti ambienti è realtà. io appunto avrò incontrato oltre 100 realtà in Italia e anche in Europa tra i covillaggi e i remiti, persone che cambiano vita e quello che tu mi dici è anche uno dei motivi per cui tanti appunto non magari lasciano lavori anche ben pagati, manager, imprenditori o comunque persone che hanno per la società raggiunto tutto, quindi magari una casa, una macchina, appunto essere manager, quindi anche in certo rango o comunque status symbol, però dicono guarda, è arrivato il livello in cui lo stress, la competizione, l'apparire era, cioè non era quella ma allontanava dal mio vero essere e dalla mia vera felicità e quindi cambiano vita, quindi appunto poi comprano il camper, vanno a vivere, è nato sufficienza in un ecovillaggio poi ognuno trova la sua strada di cambiamento, però quello che tu mi dici è uno dei, diciamo, principali leve che portano le persone in qualche modo a voler dire no, non voglio questo, voglio altro. Vero, questo ti faccio solo una domanda a te, siccome hai l'opportunità di entrare in così tante realtà e poi andiamo sulle risposte che stanno arrivando, se altre vogliono aggiungere fatelo pure, nel girare in così tante realtà e vedendo così tante persone diverse che fanno cambi vita anche un po' esterene, comunque importanti, diciamo così, tu qual è il minimo comune denominatore che hai visto in queste persone, cioè cos'è che hai notato di ricorrente rispetto a queste persone? Alla base in qualche modo c'è comunque un volea vive più a contatto con la natura, con se stessi, coltivare delle relazioni autentiche, sane, possono essere relazioni non solo anche con persone, ma anche banalmente con la natura, pensa per esempio agli eremiti, a Arthur che è uno degli ultimi eremiti che sono andati a trovare, lui vive senza macchina, senza soldi, con 50 euro all'anno, vive senza frigorifero, quindi in qualche modo lui la mattina si sveglia e va nel bosco, trova il cibo che poi cucinerà la cena, quindi lui ad esempio il contatto suo principale è con la natura, lui dice appunto lui è il più contatto con la natura che può essere umani, dall'altra sicuramente il tema di se dovessi riassumere l'armonia con la natura, gli altri e se stessi, ecco, uniscono anche sui pilastri, ecco. Questo della natura è anche un tema molto importante che secondo me possiamo ritoccare anche altre volte, intanto grazie, dopo vedremo anche, ti voglio chiedere anche cosa secondo te aiuta le persone a fare questi cambi vita, ma ce lo chiederemo tutti insieme, perché spesso si parla di cambiare in maniera importante qualcosa. Allora, cosa ci allontana dalla felicità? Partendo dalle prime risposte che sono arrivate, Sergio dice stress, poi di tv, identificazione, non essere ben compreso, la mancanza di tempo, il tempo sempre occupato, mancanza di relazioni valide e stabili, far parte di questa società, riuscire ad apprezzare appena il presente e il momento, non poter dedicare tanto tempo alle cose che mi interessano, mancanza di apertura e di conoscenza di alcune parti di persone nel mondo. Allora, questa cosa del tempo l'avete scritta in tanti e se qualcun altro vuole aggiungere fatelo pure, mancanza di tempo, cioè come se il tempo, c'è la percezione di usare il nostro tempo per cose che poi non ci rendono veramente felici, quindi forse può essere connesso al fatto di avere una vita in cui ci sembra di poi occupare il nostro tempo con attività che non ci soddisfano, e forse questo è poi quello che porta anche tante persone a fare dei cambi vita importanti o a mollare tutto e dire sono anche il manager più figo del mondo, va bene, basta, prendo una barca a vela e parto in mezzo al mare, quindi sicuramente questo può essere qualcosa che effettivamente accomuna tante persone. Vorrei soffermarmi su questo concetto che porta Margherita, condivido la domanda a tutti, riuscire ad apprezzare appieno il presente. Perché lo voglio spiegare? Perché è un tema ad oggi anche nel mondo della spiritualità e della crescita personale super, super, super ripetuto, molto spinto ed effettivamente anche, come dire, non così immediato da agganciare perché c'è la lotta col futuro e col passato. Quindi oggi levo una frase bellissima, diceva quando sei giovane senti che la felicità la raggiungi quando sarai grande, quindi quando hai 15-16 anni diceva quando sarò grande io sarò felicissimo farò quello che voglio wow 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 quando sei grande dici cavolo ma come ero felice quando avevo 20 anni ditemi o no se non è vera se non è vera questa cosa e sto momento presente non è mai il momento in cui effettivamente uno vive la propria vita a me è quello che personalmente anche io mi confronto con questa sfida è una sfida importante riuscire a vivere nel presente anche perché richiede come dire l'umiltà o forse la saggezza di saper cedere anche a tutti quelli all'ansia all'agitazione di far accadere le pressioni a queste pressioni che ti fanno diventare matto fondamentalmente vai aggiungi pure tu come te la vivi tu vivi nel presente o dove vivi sei nel futuro adesso sei nel cosa dimmi io sono nel futuro io l'ammesso è un mio grande limite è un mio grande pregio perché come tutte le cose c'hai pro e contro quindi ne sono consapevole che la consapevolezza è importante quindi io tendenzialmente sono sul futuro perché comunque ho idee visioni creativo eccetera sei un visionario sei un sognatore però ammetto che c'hai dai pregi perché comunque alimenti tanto la verità ma c'hai dei comunque c'hai dei limiti appunto il fatto che non godesse il momento presente oppure ave anche io ad esempio sto imparando a coltivare a coltivarla più ad esempio celebrando una cosa che su cui sto lavorando ad esempio celebrare quindi appunto ritagliarmi dei momenti in cui celebro quindi in qualche modo mi godo il momento presente al meglio quindi dico assolutamente massima consapevolezza che come dici tu che io so tendenzialmente sul futuro e che voglio anch'io come te coltivare essere nel presente è questo questo del celebrare ecco vi chiedo due altre domande così continuiamo allora allenarsi a rispondere nella chat live è parte di questo gioco di questo format consideriamo questa serata come se fosse una meditazione una serata di yoga quindi il fatto di condividere rispondere confrontarci è parte dell'esercizio perché ci aiuta a tirare fuori e a creare un campo di confronto quindi qualcuno ci chiede dateci due dritte sul vivere nel presente io lo chiedo anche a voi tu cosa fai perché comunque capiterà tutto ogni tanto di sentirsi vivere nel presente la difficoltà è renderlo costante è questa la mia il diario io mi aiuta tantissimo il diario io ci avrò io ci avrò credo me li tengo ci avrò tipo 20-30 diari in cui allora prima lo facevo costantemente devo essere sincero tipo una volta al giorno mi ritagliavo un momento adesso solamente al bisogno in cui appunto so che mi ritaglio quel momento in cui scrivo scrivo e le posso consiglianti alcune cose nel senso che in passato ad esempio ho provato a acquistare è stato molto utile il diario della gratitudine che volete trovare a viveria sui siti internet di cui non diciamo il nome per non alimentare non facciamo pubblicità occulta esatto ragazzi esatto ma quel sito quel sito che guardate capito ma non si può dire in cui appunto è utile perché ogni giorno se tu lo prendi con costanza come lo pensi prima di andare a letto dici scrivi tre cose cinque cose n cose non ricordo poi ogni libro è diverso per cui vai a letto con gratitudine quindi anche se torna le cose semplici io lo feci teoria della gratitudine sono per un anno quindi 365 pagine ogni giorno di farlo quindi ripeto per me è il diario personale ci potrebbe essere il diario delle gratitudine la meditazione sicuramente io c'era un periodo che meditavo tutti i giorni ho fatto vi passano ritiro eccetera è una di quelle cose ad esempio per me la mia meditazione è la camminata col cane ad esempio per me il fatto il cane prende il cane la mattina e la sera fa la camminata è per me la mia meditazione però ecco un po' di suggerire la camminata col cane e si fa perché potrebbe essere una cosa ricorre voglio sapere adesso da ognuno di voi cosa per voi è un momento di gratitudine e di meditazione scrivetemi per favore anche qui due righine cos'è però vai avanti mi sta piacendo questo quindi il diario il diario il diario delle gratitudine poi c'è appunto la meditazione poi per me ad esempio anche la musica l'arte cioè quindi per esempio la musica il film per esempio io sono uno che guarda tantissimi film due o tre settimane perché in qualche modo mi consente da una parte di immergermi in un viaggio invece di fare un viaggio fisico quindi vado in America o in Cina il film mi consente di fare un viaggio comunque di entrare dentro una storia eccetera ma anche in modo per godermi di vivere di godere il momento presente quindi sicuramente tutto quello che è arte rientra potrebbe rientrare in qualche modo in una pratica per godersi il momento presente tu invece Entello quale altre cose ti vengono in mente allora grazie per la domanda mi piace molto allora domandone è un bel domandone intanto sto leggendo qualche vostra risposta continuate per favore a rispondere come voi vi rapportate al momento presente cosa fate per vivere il momento presente quando vi accade io sono un grande cultore ed è una cosa che devo proprio impormi di fare quindi è una cosa che faccio proprio consapevolmente delle pause ed è una cosa che mi sforzo tanto cosa vuol dire che durante la mia giornata ho dei momenti dove stacco ma stacco proprio completamente che vuol dire telefono spento tutto spento prendo e mi isolo mi isolo in senso positivo cioè mi raccolgo dentro di me quindi vado quello che magari può essere per te la camminata col cane io di solito lo faccio con la natura quindi magari mi siedo ho la fortuna di vivere in un luogo molto immerso la natura e guardo il cielo e mi fermo cioè lotto e mi educo dentro di me a rilassarmi in questo quello che a me è utile è fermarmi davanti alla natura io leggo tanto mi piace leggere mi rilassa tantissimo e mi aiuta a stare lì nella storia e poi anche a me è tanto l'arte io adoro scrivere o ascoltare musica suono anche e quando suono quando suono proprio per suonare cioè quando suono che sono cioè suono perché mi va di suonare o scrivo perché mi va di scrivere io lì sono in momento presente ma in momento presente è quello proprio vero quello dove c'è quella dimensione di flusso di particolare in cui ti scordi del tempo e quando forse ti scordi del tempo sei nel presente perché sei fuori quindi insomma lì a me lo scrivere la natura la poesia quindi leggere le poesie faccio tanto leggere le poesie perché nella musica io sono un appassionato di questo aspetto io ho ricercato nelle interviste dei musicisti voglio condividere questa cosa questa condizione che nella spiritualità nell'esoterismo nella magia è tanto ricalcata cioè il momento di contatto con la prima parte divina o quando sei un canale con qualcosa di superiore in realtà l'artista più o meno consapevolmente è lì io ad esempio sono un appassionato degli oasis mi piacciono un sacco gli oasis e ho guardato tante interviste del scrittore del songwriter degli oasis Noel Gallagher dove gli chiedono ma tu come hai fatto a scrivere questa canzone cioè come ti è venuto e sapete cosa rispondevano ma come tanti altri non lo so le persone loro non lo sanno come ha fatto loro hanno scritto la semplicità del momento la melodia quello che è e quella canzone è diventata la canzone in quel momento la persona è così dentro al processo che accade la magia quindi io credo che vivere nel presente è avvicinarsi a quella magia della vita in cui sei così connesso con la vita che c'è quella è magic io dico il magic accade quella cosa lì e ognuno trova insomma qualcuno scrivere viaggiare ascoltare musica scrivere vedo ciò che mi circonda bellissimo camminare nei boschi tanta roba perché qui ritorno in tema della natura cercare luoghi che ci riportano dentro qual dimensione andare a fare teatro Samuel condividiamo tanto un'altra probabilmente esperienza di queste trans artistiche in cui si vola a cantare a leggere un libro per me come Bernardo stare con i miei figli e con i miei cani e il mio gatto e vai cani ragazzi hanno avuto successo scrivere breve sintesi dei vari libri che leggo in maniera alternata ogni giorno Roberto bellissimo stare da soli condivido l'arte meditazione bellissimo e questo insomma secondo me sono già spunti questa cosa comunque dell'arte io ho intervistato ormai un po' di persone ed è tornata tanto tante persone che vanno nell'arte al di là di essere artisti o meno e quindi parliamo di viverci nella maniera spontanea questa dimensione è qua ok allora io ragazzi vi ringrazio perché questo momento è stato molto magico per me mi sono divertito particolarmente a dire questa cosa che è uno dei pezzi del puzzle della felicità quindi vuol dire che ne stiamo alimentando che è positivo stiamo a profusione sparando felicità che si segue ora apriamo un primo gioco di questa serata ok è un gioco in cui partecipiamo tutti Bernardo come ospite tutti voi come partecipanti a questa serata e per partecipare come funziona bisogna commentare nel vostro caso in chat il vostro punto di vista rispetto al tema che tirerò fuori cioè ho selezionato mi sembra 4 o 5 concetti miti sulla felicità concetti che sono anche un po' provocatori quindi servono un po' a smuovere le nostre rotelle possono anche polarizzare un po' quindi va bene avere posizioni diverse su qualcosa anzi serve avere anche una diversità che si metta a confronto ho selezionato 4 o 5 di questi temi li ho messi in una bella slide e giocheremo insieme a dare commento a questi concetti molto comuni sulla felicità almeno nella nostra cultura moderna cultura occidentale europea ok come funziona scrivete in chat il vostro punto di vista anche brevemente condivido non condivido mi piace non mi piace mi torna non mi torna giochiamo a questo gioco duale e ci confrontiamo andando così ad esplorarli Bernardo sei pronto a gioco io non lo so avevo un po' paura alimentiamo la felicità e dai io bevo un sorso dalla mia tazza intanto anche quello alimenta la felicità perché l'acqua i neuroni specchi l'acqua i neuroni specchi tutta roba non tocchiamo l'entanglement e la fisica quantistica perché se no è un delirio e perché anche lì si può andare allora ho chiamato questo gioco parliamone siccome il format si chiama parliamone apertamente questo gioco si chiama parliamone perdonate le mie grafiche cari amici telespettatori perché le ho fatte io non è la mia qualità eccelsa ma ho fatto il meglio che potevo spero vi piatta posso dire che l'autenticità la genuinità è un altro pezzo del puzzle della felicità perché fa anche rima genuinità autenticità felicità e secondo me se fanno rima vuol dire che fanno parte dello stesso questo è la mia logica cioè io non so però quindi chiamo chiamo Diego Fusaro e chiedo se è d'accordo speriamo di avere questo mi piace comunque la felicità allora partiamo con questo gioco chat alla mano e scateniamoci vediamo se condivido bene la nostra slide eccola qua allora questa è la prima slide che presenta questo gioco parliamone un divanetto qualche piantina frasi molto dirette sulla felicità vorrei sapere da parte vostra condividete o non condividete cosa ne pensate vado con la prima vai essere felici significa essere liberi di fare qualsiasi cosa quando e come si vuole d'accordo o non sei d'accordo vai voi scatenate il vostro punto di vista fate sapere se vi torna o non vi torna e intanto noi partiamo con il nostro Bernardo Cumba d'accordo o non d'accordo cosa ne pensi no non penso cioè nel senso potrebbe essere una felicità ma individualista perché perché ad esempio io posso dire domattina cioè il concetto di felicità è anche collegato al tema della felicità collettiva o comunque la collettività influenza la cultura l'educazione la famiglia il contesto storico influenza anche la felicità quindi ad esempio nella pratica se io domani decido di tagliare tutti gli alberi del mio del mio territorio perché appunto posso farlo qualsiasi cosa quando vuoi come voglio lo faccio sono libero sì questa cosa va a alimentare la felicità ma probabilmente la mia nel breve termine sì ma nel lungo termine probabilmente no perché anch'io sarò senza verde non potrò vedere il verde eccetera eccetera e soprattutto questi alberi che vengono che io potrei farlo non vanno ad alimentare la felicità collettiva e quindi automaticamente non alimentando la felicità collettiva non viene alimentata tramite i luoghi specchi e altre cose la mia felicità questa è la mia opinione tu che ne pensi? allora intanto grazie ma chiedo a tutti quelli che stanno scrivendo condivido e chi dice di no di scrivere perché cioè condividi perché quindi scrivi in due righe perché condividi questa frase basta un concetto semplice e chi dice di no che non è d'accordo per favore dica perché non è d'accordo è un gioco è un gioco filosofico quindi ci serve solo a portare alle strette un punto di vista quindi scrivete il perché se no non basta scrivere d'accordo o non d'accordo allora io cosa ne penso? penso che ci chiede un'altra puntata perché qui c'è di mezzo la parola libertà ci porta a chiederci cosa significa essere libero ovvero io credo questo che ci sia una felicità inizialmente egoistica che è sana è come un palloncino quando lo gonfi cioè tu parti a gonfiare la felicità e all'inizio è come un'aura un ovetto che ti avvolge a poco a poco io credo che la maturità la saggezza l'evoluzione nella crescita personale spirituale che uno può chiamare come vuole sia dilatare la felicità l'amore i sentimenti nobili verso gli altri gli altri ragazzi io non penso non solo gli esseri umani ma le piante gli animali per chi crede e sente gli spiriti di natura le dimensioni più sottili quindi penso che questa frase sia ovviamente provocatoria sull'ata apposta ma che ci porta a comprendere condivido quello che dicevi tu cioè che la nostra felicità la nostra libertà ha comunque ad un certo punto da considerare gli altri deve integrare gli altri anche perché se ci diciamo spesso che la salute la guarigione la felicità sta nelle relazioni è indispensabile che nel rapporto come se sono a porto con gli altri ci sia questa dimensione in più ad oggi la propaganda di fai quello che vuoi e sei felice io credo sia anche frutto di una propaganda dove la libertà non è una vera libertà cioè avere quello che vuoi è veramente essere liberi cioè libero io penso che la libertà sia una conquista intima di una qualità enorme ma proprio enorme la vera quella con la L maiuscola e quindi sia una virtù dell'anima quindi è una domanda provocatoria a cui io dico snì nel senso che il salto è proprio quello che dicevamo coinvolgere anche gli altri dottor Bernardo mi dica ho risposto bene ma secondo me qui potremmo scrivere un libro potrebbe essere un bellissimo libro cioè io nuova filosofia nel senso potremmo ambire a veramente fare cose belle con tutta questa filosofia allora io condivido qualche domanda perché ne sono arrivate comunque edizioni non possiamo dire la che ci pubblicherà per motivi proprio mi sembra di essere da Lundini ogni tanto ecco Samuel dice ad esempio ma solo dove la mia felicità non vieti la felicità degli altri giusto dove gli altri intendiamo le persone ma anche appunto gli alberi la natura e così via Carla dice no perché la libertà può essere felici se so cosa devo fare per essere felice se voglio usare questa libertà per essere felice solo la libertà non basta perché bisogna essere se stessi sempre dice grazia Nicola dice no perché è un comportamento egoistico e qui torniamo al tema dell'egoismo che dicevamo prima ecco l'egoismo è un po' la parola che più è uscita non ho trovato nessuno particolarmente d'accordo su questo cioè qualcuno sì però è una frase che ci ha toccato a tutti allora vado con la prossima perché ci vola ragazzi le prossime sono un escalation per essere felici bisogna imparare a dire di no beh sì dai a dire di no condividi o non condividi scrivi subito nella chat cosa ne pensi per imparare a essere felici bisogna dire di no cioè rinunciare a dire anche no Bernardo sì dai ci sono dei valori i valori se a me mi dici domani non lo so andiamo non so a fare la guerra contro a uccidere i cani perché fanno casino e ti direi di no perché poi non rispecchiamo i valori quindi sarebbe una cosa incoerente che non va a alimentare quell'integrità quella moralità che è uno dei pezzi del paso della felicità ma anche a livello te la metto a livello anche dal punto di vista pratico esatto capita di non dire il no quando dire anche un no ad una cosa ecco la domanda è dire no ogni tanto e quindi non essere sempre sul sì ci torna secondo me questo è un punto importante anche perché è veramente per certe persone dire no è veramente difficile vedi Laura dice ad esempio bello questo dire no ma con rispetto è perché anche il no va giocato con stile insomma si può servire a volte sempre usando gentilezza però e non è scontato grande Nicola condivido molto ma andiamo subito sulla prossima ancora intanto scrivete ancora ma andiamo sulla prossima piccante e qui ragazzi attenzione attenzione non mettere questa domanda e qui e qui vi chiedo se siete d'accordo o non siete d'accordo e motivazione questo è il domandone i soldi fanno la felicità voglio risposte cominciamo prima autentiche concretamente i soldi fanno la felicità sì o no parlo ad oggi 2024 questa società in cui viviamo i soldi fanno o non fanno la felicità scrivi subito cosa pensi così lo confrontiamo e qui non mi resta che tirare in mezzo il nostro filosofo autore sociologo divulgatore premio Nobel premio Oscar no Bernardo Pumba no quello qui dopo ma io penso allora qui mi viene in mente una ricerca che diceva che eh mo non mi ricordo qual era però il concetto è che entro una certa soglia i soldi non è che fanno la felicità ma te senti sicuro puoi come di sicuro in termini anche dei bisogni fisiologici di pensare al futuro e al presente in una maniera positiva lucente ma attenzione se parla a me sembra di cifre non 10.000 euro al mese ma se non ricordo male poi queste cifre cambiano in base allo Stato allo Stato perché c'è l'inflazione il potere i prezzi altre cose quindi ogni Stato ha i suoi ad esempio quanto serve in America Latina è diverso dell'Europa è una cifra diversa dall'Italia alla Svezia o alla Svizzera io mi sembro di ricordare che la cifra in Italia fosse intorno ai 2000 euro e quindi entro questa cifra se se va oltre non aumenta il tasso di felicità cioè nel senso la felicità rimane comunque uguale raggiunta questa somma è il picco poi oltre questa somma non succede niente perché comunque anche questo è un grande tema che comunque avete tanti soldi è uno stress perché li devi spendere perché devi andare in giro perché poi le persone ti chiedono perché fa tanti soldi quindi vogliono fare interviste quindi sei riconosciuto cioè secondo me c'è una cifra affinché tu sotto quella cifra non è che non sei felice ma magari anche soggettivamente magari il futuro il presente i bisogni fisiologici non è lì sopperisci al meglio soprattutto anche parlando magari in un contesto familiare perché in contesto è solo in contesto è una famiglia ma raggiunta quella cifra secondo me il livello di felicità non aumenta anzi paradossalmente sopra una certa soglia si abbassa allora mentre parlavi tanto grazie e chiedo anche a voi di dare spunti in chat di scrivere sempre il perché quando dite no sì perché qualcuno l'ha fatto ma aggiungete pure ho fatto qualche ricerca e sono finito in qualche articolo perché mi ricordo anch'io di questa ricerca di cui tu stai parlando di questa soglia e il range che danno ovviamente non capisco qual è il paese però prendiamolo come stima tra i 48.000 e i 70.000 euro annui che vanno dai 2.000 euro più o meno al mese più o meno da quello che sto un po' di più in realtà 5.000 e qualcosa insomma sì 5.800 però questo sembra l'Inghilterra quindi bisogna vedere perché poi c'è quando però quello che emerge è quello che proprio dicevi tu cioè sembrerebbe che il denaro fa la felicità fino a un certo punto quindi in una società come la nostra avere una certa somma una certa entrata ti dà un livello di felicità di soddisfazione sfondata quella storia sembrerebbe che il processo si inverte sembrerebbe che il processo si inverte difatti c'era anche un'altra ricerca molto bella delle persone che vincono le somme al superenalotto che era agghiacciante cioè che il 90% delle persone che vincono al superenalotto dopo 8 anni hanno perso quella somma sono più tristi di sbagliate di prima perché gestire il denaro è uno stress è una responsabilità va saputo fare insomma è energia come diciamo spesso quindi è una è un qualcosa sento un suono strano non so se vedi a te che ti stavi grattando qualche si stava grattando il nostro filosofo no adesso è meglio però aspetta questa ricerca io l'ho letta recentemente se qualcuno si ricorda di chi è sarei curioso allora su mori.it c'è la ricerca datata al 3 febbraio però sull'Inghilterra e qui leggevo ovviamente in Inghilterra si parla però sembra che è un video secondo me qualche video di qualche intervista se qualcuno si ricorda mi sfuggi faccelo sapere faccelo sapere perché questo è un domandone ed è curioso come si crei una curva che torna indietro poi quante volte quante volte personaggi tanto famosi attori lo spettacolo hanno detto apertamente che raggiunto il loro apice si sono trovati comunque nonostante soldi infiniti accesso a comfort infinito depressi soli caduti in vizi che hanno potuto stare molto male ovvio che uno dice cavolo ma se io fossi lì sarebbe diverso in un altro modo è comunque un dato tantissime di queste persone come anche altre no quindi non possiamo estremizzare si sono trovate comunque in estrema difficoltà perché è come se emergessero un senso di vuoto dopo un po' cioè il denaro è come mi viene da dire questo farei questo esempio è come il cibo il cibo fa bene sì in che quantità cioè quanto ne stai abusando quanto ne mangi quindi il denaro ad oggi sicuramente averne o non averne può darti de comfort può darti una solidità una stabilità ti permette di fare una serie di cose il troppo stroppia queste persone manifestavano spesso questo senso di vuoto di mancanza di significato per la vita come se si corrompesse poi il senso della vita stessa quando raggiungi questi null limits rispetto al denaro cioè questo null limits toglie valore alla vita stessa infatti dalle vostre risposte che incominciamo un po' a prenderne qualcuno ci dice no soddisfano alcuni bisogni che a volte non sono neanche i nostri anche questo è verissimo quindi si lotta per avere denaro per poi comprare cose che non sogniamo neanche insomma che ci hanno fatto credere che ci servivano e poi chi giustamente dice no ma ti aiutano molto per vivere cioè ad oggi effettivamente servono Samuel dice i soldi sono solo una cosa materiale la felicità è molto di più che materiale direi molto condivisibile molto molto condivisibile Laura no le relazioni sane sì i soldi in giusta misura aiutano a soddisfare bene i bisogni materiali io so anche che tu hai intervistato persone Bernardo se non sbaglio che vivono senza soldi o comunque ti sei anche interessato ti sei posto le domande rispetto a una società senza denaro tante persone hanno fatto elaborazioni su una società cioè se domani togliessimo il denaro che si fa cosa che succede ci sono tanti libri e tante teorie molto interessanti e siccome noi siamo ricercatori queste rate nascono per fare ricerca studiare conoscere è sempre un bello stimolo e Laura dice se Bill Gates fosse felice non ci stresserebbe così tanto bello 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 questa è bella Verena dice dipende da come gli usi investi per vivere meglio certo poi c'è anche chi l'imprenditore c'è chi ha la capacità di usare questa energia per creare un valore aggiunto io stimo davvero tanto chi riesce a creare cose virtuose attraverso cioè al pari di un artista di un artigiano chi riesce a creare attraverso la capacità di far girare risorse economie cose valori aggiunti straordinari per l'umanità e lì rientriamo di nuovo secondo me nell'arte quando parliamo di arte a un'ottava di un certo tipo allora prima di andare all'ultima slide Bernardo vuoi dirci qualcosa su un mondo senza denaro o hai qualche solo pillola da darci rispetto a una riflessione che ti sei fatto allora la prima cosa è che finito questo mio intervento devo andare di là a prendere il caricatore dell'iPhone perché se no si spenge allora vai subito no vai subito ho paura ho paura vai subito vado ad alimentare la felicità dell'iPhone arrivo vado ad alimentare l'iPhone arrivo arrivo ti aspettiamo ti aspettiamo ti aspettiamo intanto io vi mentre Bernardo va a prendere il caricatore io vi faccio nasare la prossima domanda così quando lui torna siamo già all'ultima non mi ricordo qual è la scoprirò con voi ah quella che avevo detto prima ho fatto uno spoiler parliamone da giovane pensavi che la felicità era da grande da grande rimpiaggi la felicità che aveva da giovane vero o falso ti ritrovi in questa cheat sì o no e cosa ne pensi anche qui fate sapere in chat cosa ne pensate se vi trovate ad aver pensato insomma a questa condizione che è successo questa cosa qua se ve la vivete o meno allora mentre andavi a ricaricarti ho introdotto l'ultima domanda così che mi sono portato avanti ai tempi ed era una cheat che avevo fatto anche prima quella del da giovane pensavi che la felicità era da grande da grande che avevi da giovane ho chiesto e chiedo ognuno di voi è vero vi torna vi è capitato di pensarlo vi siete ritrovati a dire cavolo effettivamente così tornereste indietro o non tornereste indietro su quelle classiche domande che mi dice ma se tornassi indietro al teddy quando avevi 15 anni cosa gli diresti cosa gli suggeriremo una domanda da trip così allora mentre scrivete in chat e lasciate pure scorrere il vostro flusso e date contributo Bernat cacciaci una pillolina su una società senza denaro ma ripeto la persona che mi viene in mente è Arthur che lui appunto vive con 50 euro all'anno vive quindi senza soldi in pratica penso che per come costruite come se fosse no è come è come se la nostra società avesse dei pilastri adesso immaginarsi proprio proprio il livello di immagine una società senza soldi è veramente difficile io faccio fatica a immaginarla faccio ad esempio è più semplice immaginare una comunità che può vive diminuendo al minimo i soldi no perché ci può essere non lo so lo scambio l'autosufficienza alimentare energetica idrica però già già quando uno parla di viaggio ok può fare autostop può fare n cose però già il prendere l'aereo per andare in un altro continente al momento serve quel minimo che può essere anche veramente 100 euro all'anno 200 euro all'anno al momento per come è il pilastri della nostra società faccio proprio fatica a immaginarla vedo possibile diminuirli attraverso lo scambio l'autosufficienza il baratto ma soprattutto la diminuzione quindi attualmente no ne abbiamo parlato forse all'inizio abbiamo tantissimi oggetti tantissime cose che nemmeno io so ad averli quindi comunque il diminuire risparmiare è la prima fonte in qualche modo del risparmio e quindi anche di andare nella direzione del vivere con meno soldi ecco alla grande grazie di questa la ringraziamo dottore per il suo intervento a questa è sempre piacevole è sempre piacevole è molto alto e ora il tema comunque questo tema lo approfondiremo in un'altra serata sicuramente il tema denaro società alternative riguarda in prima persona allora da grande da giovane volevi essere grande da grande volevi essere giovane vediamo un po' i nostri cari amici telespettatori cosa ci dicono Margherita verissimo siamo sempre a rincorrere ideale vivere presente leggendo il giornale del giorno dopo da giovane facevo bene la giovane mi trovo molto d'accordo io ho fatto tanto bene il giovane anch'io Nicola dice secondo me è falso perché non riguarda l'età felice può essere un giovane come un vecchio l'ho sempre fissuto così anche ora ecco direi sacro santa verità cioè sacro santa verità felicità non ha tempo questa frase provocatoria nel senso che metti in evidenza come la mente la testa ci porta a voler stare nel passato quando siamo nel futuro a voler stare nel futuro quando siamo a triggerarci in questi giochi folli ma è vero penso che si possa essere felici a qualsiasi a qualsiasi età la nostra grazie dice no ho vissuto comunque grandi emozioni sempre perciò sono stata felice anche da giovane ma Bernardo la tua adolescenza gioventù com'è stata due parole con quelle descriveresti cosa ci potresti cosa ci riveli della tua gioventù a gioventù intendi che età dai focalizza diciamo dai 14 ai 20 dai è stata così dai tutti i momenti alti picchi alti picchi non è stato qualcosa restabile per quello la cosa che quando mi chiedono ma tu sei felice faccio sempre tanta fatica perché perché appunto la nostra vita io penso che è fatta da una sfera c'è sta bellissima boh non so se teori io non so come chiamarla che è la ruota della vita che dice che la nostra vita è fatta da tante aree la sfera relazionale economica crescita personale la famiglia eccetera eccetera ed è proprio un gioco che io faccio mensilmente in cui mi metto l'eco sta ruota della vita e proprio è tipo come se fosse uno spicchio e sto spicchio è da 1 a 10 quindi ti dai proprio una misura e gli dici come è andato questo mese le relazioni e gli dai da 1 a 10 e poi ti chiedi ok come posso migliorare cosa è andato bene eccetera eccetera quindi credo in qualche modo appunto di sei stato felice se o no dipende appunto cosa vedi cosa scegli deve vedere cosa è andato bene cosa in cosa sei stato felice cosa ti ha fatto sta bene e cosa non te l'ha fatto essere cosa puoi fare per fa sì che quella cosa se trasformi o prenda un colore o una nota diversa ecco questo lo aggiungiamo anche ai metodi secondo me agli spunti pratici mettiamo così agli spunti pratici che ci siamo dati questa sera quindi che riassumendo potrebbe essere un momento in cui tu ti fermi e fai ogni mese ogni tot una fotografia esatto delle aree della tua vita per tirare una somma rispetto a come queste aree vanno non vanno cosa c'è da migliorare come stanno è come se fosse una radiografia della nostra esistenza per chiederti dove sono come sto come non sto ma cosa non avrei avuto non avrei ma aspetta a storia non parlo male però non avrei potuto dirlo meglio oh vedi ma grazie io faccio parte anche dell'accademia della crusca tra le varie cose io pensavo tre cani però a questo punto è sbagliato di poco tre cani o quattro cani mi è venuta così mi è venuta così mi è venuta così allora è petaloso petaloso io le ultime parole uscite leggevo ieri io compro mensilmente compro focus e c'erano l'elenco aggiornavano sulle parole nuove aggiunte nei vocabolari petaloso ovviamente una di queste ce n'erano tante altre dopo se lo ritrovo magari ve ne leggo qualcuna sempre c'era e c'era triggerare e c'era schillare come fa allora leggo qualche altra risposta prima di continuare Inna dice da giovane pensavo che la felicità era da grande adesso da grande sono felice non tornerei mai indietro guarda leggevo oggi questa ricerca che diceva che la felicità è una curva cioè più diciamo verso i 50 tra i 40 i 60 insomma 50-60 è come se lì scoprissimo la vera essenza della felicità cioè in realtà crescendo una buona maturazione della nostra storia della nostra vita portasse in realtà veramente a contattare forse l'essenzialità delle cose la parte più autentica di questa felicità quindi mi fa piacere che emerga insomma no ogni età ha la sua felicità non rimpiango niente in parte la felicità in realtà a volte rimpiango a fare il passato beh comunque immergersi nei ricordi del passato fa parte della vita ma è anche romantico poi c'è quel velo di malinconia un po' etica è anche bella cioè quando riguardi le foto leggi diari ti immergi nei ricordi comunque la vita è fatta di ricordi anche veramente incredibili io ho dei bellissimi ricordi della mia adolescenza e della mia di quel mio periodo e ogni tanto ci torno e me la e me la diverto insomma me la godo me la godo poi si può cadere un po' in quella malinconia maledetta da poeti ma è anche parte della vita è il fascino anche del passato io ad esempio non ho già ho 30 anni e non ho i capelli quindi potrei già dire quando avevo i capelli no? posso già dire questo ok allora intanto grazie per per le risposte che avete che avete dato vorrei sapere il vostro livello di energia sia del nostro Bernardo che del nostro pubblico perché ci potrebbe essere un ultimo gioco un quarto d'ora ancora da fare se siete ancora carichi scrivetemi in chat siete ancora carichi se no abbiamo un'ultima scoppietata da fare insieme per poi andare a chiudere il nostro incontro chiuderlo nell'ottica di riassumere i punti chiave fondamentali di questa confronto filosofeggiata meditazione che abbiamo fatto insieme e poi insomma incontrarci ai prossimi appuntamenti tra l'altro mi hanno detto che mi hanno lasciato il chuck fuori dalla porta quindi lo useremo come fine diretta all'incontrario però ditemi in chat se siete carichi ancora se siete solo un po' cotti così andiamo avanti Nicola dice molto energizzante serata top super lo stimolo perché ho preparato un altro gioco un altro gioco un altro gioco e spero di migliorare sempre di più nel creare questi giochi anzi se avete degli spunti per creare giochi che ci intrattengono e che ci come se una valletta un valletto o poi io fa nomi perché non voglio andare perché lo so lo so lo so lo so arriveremo a avere degli studios in cui fare di tutto però ho preparato un altro gioco ho preparato un altro gioco il gioco è il seguente è sempre un gioco di confronto di scambio che spero sia divertente comunque ci permetta di continuare la serata divertendoci cioè l'ho chiamato le cheat dei big cosa vuol dire ho raccolto aforismi citazioni da libri o interviste o frasi di persone sulla felicità quindi c'è Docchi Cassano Gerry Scotti poi Rollo Brigida Gerry Scotti l'hai detto? Gerry Scotti l'ho già detto Amadeus e Lillo e Greg che speriamo di avere prima o poi qua questo nei studios ti dà Manu Lillo venici a trovare in una delle nostre la serata facci sapere anche che ospiti volete allora questo è il prossimo gioco ci sono delle cheat cheat comunque epiche insomma importanti e insieme cosa faremo? di nuovo ci chiederemo ci sta non ci sta mi torna non mi torna daremo punti di vista cercheremo di meditare insieme ecco qualcuno dice c'è Benigni forse mi fai salire la voglia Carla di fare una cosa che avevo programmato che forse ci può far bannare la live o forse no cioè condividervi un video perché e io lo vedo un po' sincronico ho selezionato prima di fare gioco dei video di discorsi sulla felicità uno di questi è il discorso di Benigni sulla felicità non so se l'avete mai visto è molto bello spero che nel condividerlo e lo condividiamo perché colgo questo segno come un segno sincronico lo riuscite a sentire bene altrimenti lo trovate su youtube stesso si chiama Roberto Benigni la felicità il discorso più bello ora lo metto lo condividiamo perché credo sia stato un segno lo ascoltiamo e poi commentatelo commentiamolo mentre lo vedete o alla fine per dirci insomma come ci è sembrato allora vediamo un attimo ma c'è live Roberto vero? ciao Roberto ci senti? Roberto ovviamente lo farà live per noi di nuovo ecco io lo posso chiamare anche Roby perché lo conosco io lo chiamo Beni per me Ben 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 dove sei? allora schermo è pronto ad essere condiviso vediamo se parta anche la pulsa di youtube ditemi se lo vedete vedi la scheda di Stinger ok adesso si vado? vai la felicità si la felicità a proposito di felicità cercatela tutti i giorni continuamente anzi chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità ora in questo momento stesso perché è lì ce l'avete ce l'abbiamo perché l'hanno data a tutti noi ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli ce l'hanno data in regalo in dote ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo ma ce l'abbiamo ce l'avete guardate in tutti i ripostigli gli scaffali gli scomparti della vostra anima buttate tutto all'aria i cassetti i pomodini che ci avete dentro vedrete che esse fuori c'è la felicità provate a voltarvi di scatto magari la figliate di sorpresa ma è lì dobbiamo pensarci sempre alla felicità e anche se lei qualche volta si dimentica di noi noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei fino all'ultimo giorno della nostra vita e anche se lei qualche volta si dimentica di noi noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei fino all'ultimo giorno della nostra vita fino all'ultimo giorno e qua poi lo ripete tanta roba eh scrivete pure se l'avete visto come vi è sembrato cosa vi è rimasto impresso Yara ha scritto meraviglioso beh poi Benigni ha un fuoco dentro del pazzo che ha una passione che la passa tutta ha una passione incredibile ha una passione incredibile a me quello che piace tanto è di questo discorso e quando dice di cercarla di buttare giù i comodini far saltare in aria tutto cioè come se l'hai nascosta da qualche parte cioè ce l'avevi l'hai nascosta e ora non ti ricordi più dove l'hai messa questa metafora mi piace tanto la trovo molto molto reale beh che tra l'altro il discorso è del discorso più ampio che dura quattro minuti ma non mi ricordo come si chiama cioè questa questa parte è una parte del discorso è una parte di un pezzo che è molto bella mi sembra che sul significato della vita mi sembra che l'ho trovato su youtube ed è bello anche perché c'è nuvole bianche di Ludovico Inaudi in sottofondo quindi c'è Ludovico Inaudi in sottofondo c'è Benigni con la sua passione e insomma un bellissimo discorso poi uno può condividere il pensiero di Benigni però proprio la passione e l'emozione passa tutta fatemi sapere se vi è piaciuto fateci sapere se vi è piaciuto in chat ma senti ma ascoltiamo invece il discorso di Entello alle Nazioni Unite no vero la felicità arriva adesso sei un patacca veramente ora dietro c'ho il microfono adesso un giorno faremo una live dove io vedo qua con il microfono e farò il grande discorso finale grande discorso alla Nazione quello che faceva accettola qualunque vai scriveteci se l'avete visto se l'avete sentito perché magari laggava un po' il video e magari non l'avete sentito no io l'ho sentito bene io penso che Samuel dice condivido a volte la felicità l'abbiamo sempre avuta ma a volte ce la dimentichiamo e dobbiamo ricercarla veri è quello che dicevamo esatto è proprio un gioco è proprio un gioco ecco quello che vi ricordate quando abbiamo parlato di arte quello che secondo me ha fatto Benigni in questo momento che si può fare anche con se stessi nel proprio dialogo della vita a me per questo piace tanto la musica e la poesia e poi reinterpretare la vita attraverso questa lente più magica cioè lui ha parlato fondamentalmente di quel momento in cui tu sei disperato e la felicità non sai più dov'è e te la puoi vivere anche male tanto male ma quando la rendi poetica una cosa cioè che se e dici prendi i cassetti falli saltare in area guarda per tutto cerca ovunque rendere poetica la vita renderla un film renderla divertente comico ma anche romantica quello secondo me libera la magia della vita e quindi alleggerisce anche anzi crea quel senso di avventura e di follia un personaggio come Benigni interpreta direi da Dio però è tanta roba tanta roba comunque ragazzi ragazzi vogliamo fare un grande applauso io veramente te meriteresti come minimo la conduzione di qualche programma o come minimo comunque devi sviluppare questa tua dote ma non so fare però nel senso io vorrei fare un applauso che come se fossimo davanti come di in una platea adesso un bel applauso mentre guarda davanti una devo andare al microfono di nuovo allora si si vedeva molto bene sono contento grazie di questo super elogio ah prendiamo Nicola che dice che non è d'accordo top intanto ringrazio Nicola per aver esposto il suo punto di vista non sono d'accordissimo con lui non l'abbiamo nascosta non ascoltiamo né noi stessi né gli altri la felicità è molto legata all'ascolto e alla relazione secondo me condivido moltissimo fondamentalmente potremmo dire che l'ascolto è l'arte di trovare ciò che hai nascosto perché quando tu ascolti sei in una condizione di accoglienza sei in una condizione mistica di esplorazione di apertura di quelle voci spirituali interiori di quei suoni che arrivano dalla natura dai profumi quindi condivido tanto sicuramente sono due cose che possono entrare in armonia l'ascolto non l'abbiamo ancora toccato questa sera ma è effettivamente una virtù è una capacità molto grande che ha a che fare secondo me con la felicità ad oggi sapere ascoltare è già un traguardo enorme in un mondo da se stessi i bisogni gli altri allora facciamo un po' di quizettone così sbaragliamo un video per esaltarci un po' il video si è preparato vediamo il suo pugno grazie però dice bisogna amarsi e sapersi amare così vedere questa magia di cui parli crea lì intorno a tutto molto artistico poetico condivido tantissimo viva l'arte viva la poesia viva la musica perché fanno bene allora vado a condividere le cheat dei big un altro nuovo gioco come vedete un'altra slide sempre creata da me con la mia come dire col mio stile le cheat dei big ho collezionato personaggi famosi illustri ma a breve metteremo anche noi io qui dico bernardo ma vedo nicola verena grazie a carla abbiamo un vero big noi prima o poi faremo le cheat di noi di parliamo apertamente quindi metteremo le nostre auto cheat vediamo la prima cheat ne ho presa una epica epica vado eccola qua epicuro la leggo la leggo con profondità vai benigni vai benigni se fosse stato deterno la leggo con la voce quella asmer di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un'esistenza felice la più grande è l'amicizia eh beh dai la più grande è l'amicizia anche qui chiedo di ascoltarvi un attimo e scrivere per favore vi risuona o non vi risuona se vi risuona perché e avete un amico una persona una relazione con cui sentite questa profondità fatecelo sapere nei commenti bernardo dai 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 ci spostare epicuro sei promosso dai vai epicuro 5 stelle da 0 a 5 4 stelle gli diamo epicuro dai gli diamo un buon 9 epicuro non un 10 perché il nome epicuro è un po' strano diciamo che il nome epicuro è sul frassato però dai ci può stare 9 il buon epi se lo merita direi ma dai un animale sociale ne parlavamo di come secondo anche alcuni studi le relazioni sono degli ingredienti se non l'ingrediente più importante per la felicità quindi sicuramente l'amicizia si parla di relazioni di avere delle persone di sentirsi liberi genuini autentici in cui ci sentiamo in qualche modo che abbiamo qualcuno che si supporta che poi l'amicizia può essere in senso ampio cioè nel senso può essere l'accompagno può essere un amico un'amica poi ognuno nell'amicizia ci vede e gli dà un significato diverso però secondo me epicuro è un bel 9 se lo merita è una grande cheat condivido che l'amicizia rientra forse nella qualità delle relazioni più alte d'amore cioè l'amicizia io sono un gran fan dell'amicizia un grandissimo fan della ricerca dell'amicizia penso sia un tema comunque da riesplorare perché anche ad oggi avere amici non è che sia così semplice ma infatti mi stavi dire una cosa bellissima non la quantità ma la qualità la qualità esatto infatti magari uno può avere anche avere la percezione d'avere io lo vedo anche gli eventi organizzo dico no no io ho tanti amici però alla fine dopo magari l'esperienza immersiva mi sono risposto che la qualità delle amicizie che ho è bassa perché magari conosciuto che conosco due giorni mi sento più me stesso o meno giudicato e ho più coraggio di mostrare le mie vulnerabilità le mie fragilità ma anche manualmente più condivisione dei vari valori valori e altre cose che magari con amici che possa venire migliaia ma meno il famoso esempio degli amici su facebook o degli amici sulla vita reale o del sentirsi soli ma insieme torniamo un po' al tema della tecnologia c'è un bellissimo libro di una sociologa che si chiama Sherry Turkle che ha scritto un libro che si chiama anche ho trovato delle conferenze che si dice insieme ma soli in cui lei dice la tecnologia ci fa la percezione che siamo insieme però quando tu togli il visore o togli il cellulare tu sei solo quindi in qualche modo le ha coniato sto termine insieme ma soli e quindi questo non so ma rientro sul tema ecco della amicizia verissimo verissimo condivido tanto e arrivano anche riflessioni bellissime Grazia dice l'amicizia e amore è sentimento e relazione mettere in discussione noi stessi e scoprirci insieme Francesca dice verissimo è anche molto difficile avere dei veri amici e la domanda qui è ma come si fa a fare nuovi amici uno come si coltivano le amicizie come si tiene in vita perché l'amicizia è una cosa che è da coltivare cioè è una è un qualcosa che va nutrito sicuramente perché le relazioni comunque richiedono attenzione affetto amore presenza e così via quindi ad oggi è difficile avere dei veri amici probabilmente sì è però una domanda che secondo me in una prossima puntata possiamo porci anche questa alla grande e poi qualcuno dice io adoro Laura che fa una battuta e a noi ci piace l'umorismo dice l'amicizia con un ricco così posso vivere senza ascolti bravo Laura si merita un bel dieci Picuro batte favore in seconda fila Laura un bel dieci allora Samuel dice condivido a volte gli amici ti fanno essere più felici di altre cose condivido tantissimo e su facebook quanti amici che non conosciamo ragazzi pazzesco pazzesco lì ritorna il tema della qualità condivido con te la qualità ragazzi la qualità allora andiamo alla prossima domanda e vediamo che è arrivata una prima persona anche un ospite inaspettato sempre da Damod la facciamo entrare per un punto di vista veloce è una ragazza di Damanur vado sulla prossima domanda così la leggiamo ragazzi sono altre tre domande che ci gasano e ci portano riflessioni e poi andiamo in chiusura magica mi raccomando scatenati nella chat Khalil Gibran le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno ciao Aninga innanzitutto eccola abbiamo un entro abbiamo un entro abbiamo la spesa del guest della serata direttamente da Damanur esatto è lì la rete ragazzi a Damanur dai dai starlink dai parleremo anche di starlink allora continuo devo continuare ragazzi lo show non si può fermare allora si ora sei ben connessa la frase la rileggo un'altra volta e vi chiedo di scrivere in chat cosa ne pensate le vostre riflessioni perché tutto si snoda nell'ultima frase ragazzi le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio hanno il meglio di tutto ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno chiaro io su questo allora perché è arrivata Ninga io in questi format in queste puntate sia persone di Damanur che non entreranno ogni tanto sincronicamente magicamente per dare un breve un loro punto di vista sincronico per salutarci e portare un po' di movimento se a Ninga riuscirà a essere connessa a farci sentire chiedo anche a lei un suo spunto lo chiedo anche a Bernardo e intanto noi ci sentiamo nella chat a Ninga riesci a dirci brevemente cosa su questo cosa ne pensi se ti torna e dal tuo punto di vista sulla felicità vediamo se riusciamo a connetterci con la nostra a Ninga eccoci mi sentite sì 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 ok allora questa citazione mi allora mi ritrovo nel senso adesso l'hai cambiata ok mi ritrovo perché è proprio una riflessione che stavo facendo in questo periodo che è connessa un po' anche all'arrendersi all'accogliere quello che ci arriva perché poi quando si fa questo atto un po' di arrendevolezza in realtà ci arriva molto di più di quello che pensavamo dalla mia esperienza e quindi questo cioè questa citazione comunque ci porta ad avere un'attitudine cioè suggerisce un'attitudine positiva alla vita quindi non predatoria e quindi che perché poi nella nella predazione voler avere un po' tutto secondo me alla fine si è in una tensione costante e in quella tensione non si è felici cioè vivi con l'ansia vivi sempre lì che vuoi di più ma quella dal mio punto di vista non è felicità e invece proprio questo fare switch della lente di guardare magari le stesse cose che si hanno ma da un punto di vista diverso da un'angolatura diversa e vivendo in comunità ad esempio gli altri ti possono aiutare tanto a fare questo lavoro di osservare una cosa che tu la vedi solo con quel colore lì e magari un altro ti dice prova a guardarla così e tu fai ah giusto e c'è proprio un'altra sfumatura verissimo Aninga grazie per questo intervento io ascolterei anche Bernardo così rimani con noi ancora un po' e vediamo il nostro opinionista Bernardo bravo bravo Kalil 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 gli diamo un bel 9 più Kalil se lo merita dai Kalil lo comproviamo bravo Kalil bella terminologia condividiamo l'approccio focalizzato sulla gratitudine su quello che abbiamo invece che su quello che ci manca quindi un buon 9 più per Kalil bravo Kalil anche io darei un 9 più a Kalil perché sposta l'attenzione da quello che valorizzare quello che hai e non insomma valorizzare quello che hai trarre il meglio da quello che hai che anche questo è uno sforzo enorme perché io poi alla fine la devo portare questo mio punto di vista che è connesso ai desideri e al piacere la felicità è strettamente connessa al nostro rapporto con i desideri cioè con le cose che vogliamo realizzare raggiungere e che è connesso quindi con il rapporto col piacere la porto dalla fine questa perla c'è questa riflessione che mi sono fatto che io ho definito perla in questo momento ma secondo me ha tanto a che fare con questo vado alla prossima frase slide qui ragazzi Ghilem Ghilem di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici quando ho letto questa frase ho detto ci sta c'è un sacco vero l'ho selezionata perché è super controintuitiva anche qui facci sapere se vi torno a meno Ghilem è molto sottile è uno che secondo me Ghilem è stato io gli darei io gli darei era nel flusso quando l'ha scritta Ghilem secondo me era in quel flusso lì era in quel flusso no io ragazzi ho dato un gran voto per un semplice motivo perché ricalca quello che diceva forse prima anche un po' a Ninga cioè noi siamo ossessionati da questa performance raggiungere fare andare brigare quello che all'inizio della diretta chiamavamo i benestanchi no e se sta felicità dal momento che ti smetti di ossessionarti a cercarla ti accade ti arriva ecco io credo che il nostro Ghilem in questa perlettina abbia messo in attenzione questo concetto mi aspetto un commento rapido dai nostri ospiti a Ninga e Bernardo e anche dal pubblico e poi salutiamo la nostra Ninga e andiamo in chiusura vai Ninga vuoi dire qualcosa e Bernardo Fusaro vuoi dire qualcosa sì anch'io ho dieci dieci elode a Polinari sì qui mi viene da aggiungere che la felicità alla fine è una scelta quindi è vero ci sono le difficoltà è vero ci possono essere tanti eventi esterni che possono metterci in forte crisi però possiamo arrivare a un certo punto dove proprio scegliamo che vogliamo essere felici e sceglierlo ci mette sceglierlo a un livello profondo non solo superficiale a un livello profondo che comunque richiede anche un certo punto di arrivo a un certo punto lo vivi lo vivi e sei su quella dimensione non è facile per me esserci sempre però mi rendo conto è quando ci riesco che dico oh finalmente ho scelto di essere felice di non volermi più crogiolare nelle difficoltà nelle critiche nelle mie sofferenze delle mie paure e vivo su quest'altra dimensione è proprio una scelta di un certo tipo però non è difficile non è facile averla sempre come dimensione non è facile Aninga ti salutiamo grazie per la tua irruzione sincronica grazie a voi ciao grazie Aninga alla prossima allora ne approfitto anche per dire alle persone che sono rimaste connesse adesso per favore mettete un like a questa diretta per favore mettete un like a questa diretta perché ci aiuta a dare un feedback a youtube a tutti noi ci supporta ecco per dirvela semplice se mettete un like ora la nostra diretta se vi state divertendo e vi piace questo format nuovo per favore mettete un like perché ci aiutate a diffondere a far conoscere quello che stiamo facendo quindi grazie è uno scambio per noi molto molto importante detto questo Ghilerme ha preso un sacco di successo Samuel dice condivido ogni tanto bisogna prendersi una pausa e goderti la felicità che hai trovato e poi ricominciare a cercarla quando ne hai di nuovo bisogno è vero se incontri la felicità non ti accorgi che forse sta proprio davanti a te io direi che Francesca hai rassunto benissimo questo concetto che ci riporta l'attenzione al discorso di fermarsi cioè se non ti fermi mai se sei sempre in corsa affannato alla ricerca di qualcosa sempre in questa follia nevrotica moderna e non ti fermi come diciamo prima l'importanza di fermarsi la passata col cane l'immersione nel bosco la musica cioè in cui tu ti fermi e spegni questo rumore è difficilissimo veramente è veramente difficile accorgersi di quello che si ha ma anche di quello che sta accadendo dentro e fuori di noi ritorna al tema dell'ascolto per ascoltarci bisogna per forza fermarsi cioè spegnere questo caos e brusio costante io mi sento un grande promotore di questo perché riconosco che è una cosa importante che è anche una sfida una challenge come dicono gli inglesi moderna e quindi grazie Francesca perché secondo me hai riassunto molto molto bene questo concetto ok vado all'ultima prossima frase non so se l'ultima Isabel Allende è qui raga già dal nome parte alta dai ragazzi chi è che non conosce Isabel Allende scrittrice e giornalista e figlia se non ricordo male del buon Salvador Allende bravissimo beh ma qui abbiamo un uomo di cultura allora la felicità non è esuberante né chiassuosa come il piacere all'allegria è silenziosa tranquilla dolce è uno stato intimo di soddisfazione che inizia dal voler bene a se stessi ecco lei qui per questo ho scelto questa frase e vi chiedo se vi trovate d'accordo o no inizia dal voler bene a se stessi cioè condividi che l'iniziare a voler bene a te stesso può essere l'inizio della felicità può rappresentare il tuo punto di inizio per essere felice sì o no perché lei sottolinea proprio questa parte qua sottolinea proprio questa parte qua ma anche il fatto insomma poetico silenziosa tranquilla dolce però è uno stato intimo di soddisfazione che inizia a voler bene a se stessi dottor Bernardo voti alla mano ma io gli darei una Isabel allora già per il cognome comunque è uno stato di garanzia diciamo quindi già parte diciamo con un buon voto per il mio modo di vedere il mondo e diciamo che la prima parte parte un po' scarica perché comunque è molto soggettivo eccetera ma si riprende nella fase finale quando comunque dice che inizia dal voler bene a se stessi in quanto come sappiamo anche nelle relazioni il fondamento di stare bene con se stessi è il fondamento di una buona relazione per cui io direi brava Isabel un buon daie per Isabel continua con questa strada Isabel continua con questa strada ma siamo dei grandi Nicola dice soggettivo credo ad alcune persone può manifestarsi chiassosamente io concordo con quello che stavo dicendo la prima parte di Isabel è un po' un po' diciamo non al meglio delle sue possibilità anche se comprensibile e soggettivo mentre la seconda parte mi sembra molto belcazzate ed è in col cognome è un suo punto di vista è un suo punto di vista e ovviamente io mi sento di rientrare anch'io in un buon mix insomma certe volte è chiassoso certe volte non lo è Samuel dice condivido se vuoi bene a te stesso sei felice per far servire bene a te gli altri anche per me brava Isabel brava è di promosso Nicola propone un voto a Bernardo un 7 e mezzo un 7 e mezzo dai guarda io pensavo a un 8 meno 8 8 meno quindi direi Nicola ci siamo ci siamo bravo Nicola hai colto allora a me quello che piace di questa frase è solo l'attenzione su se stessi perché richiama un concetto che non so se ho messo nell'ultima vediamo è quello del è una cosa io ho intervisto io parlo ho la fortuna di parlare con tante persone anche di vivere in comunità quindi avere tante relazioni e quindi ho tanta ho la fortuna di parlare con molte persone e mi sono accorto che è una cosa assurda ma è vera e capita dentro di noi può capitare che ci si sente in colpa per essere felici assurdo cioè ci si può sentire in colpa rispetto agli altri se tu sei felice se tu sei troppo preso bene sei una persona che sta bene sei felice ti senti quasi cos'è questa roba quasi a disagio se dura troppo sei qualcosa che non va ed è una cosa strana è una cosa strana cioè che uno è felice sta bene magari ha successo ha raggiunto un traguardo e lo vive con disagio con disagio è una cosa che può accadere vi chiedo se a voi vi capita di provare questa sensazione però mi si è riconnesso il fatto di volere bene a se stessi perché credo che anche nella ricerca del piacere che per me significa una cosa molto semplice uscire dal senso di colpa uscire dal senso di colpa significa anche avere la forza di godere e se tu stai bene sei felice lo devi sostenere il processo di piacere di godimento e ad oggi la città che sto per dire è la seguente noi io credo che l'essere umano sia strutturato biologicamente per godere cioè per il piacere sia strutturato il nostro corpo mangia e sta bene va in bagno e stai bene cioè il corpo gode quando fa il corpo quindi siamo strutturati per il piacere ma siamo educati per il senso di colpa per il dolore cioè la cultura dominante specialmente in Italia è una cultura che ha una forte dose di senso di colpa di dispezzare di dolore senza di presa male anche perché se siamo come dire immersi in una cultura prettamente anche religiosa di un certo tipo per noi la felicità viene dopo cioè la felicità si è posta come un qualcosa che viene nell'albi là in un futuro indefinito dove qua devo scontare delle pene tremende quindi la vita è orribile è una cosa orribile perché arriverà un giorno ecco questo è proprio come il piacere e come distruggere il piacere mentre il piacere è riacquisire un'educazione all'ascolto del proprio corpo ma la dimensione dello stare bene perché ad oggi stare bene può essere disagiante è incredibile ma stare bene può essere troppo oddio come mai sono così felice oggi cosa mi sta succedendo forse un po' troppo quindi un pochino sì ma troppo no e questo è una mia riflessione ma l'hai messo a questa citazione spero di essere nella prossima slide Khalil Entello Khalil Entello tira cosa vuoi ma cosa ne pensi a parte gli scherzi cosa ne pensi cioè ti capito di sentirti in colpa cioè non di sentirti in colpa magari è troppo forte però riconosci questo aspetto anche voi che si fanno lo riconoscete che può succedere questa cosa o magari no c'è un confronto aperto io lo riconosco sì ma non cioè non è senso di colpa cioè sono fasi della vita significati che uno dà per cui anche in tema di ruota della ruota della vita cioè che gira cioè secondo me la felicità non è qualcosa di statico ma no è picchi alti picchi alti per cui magari ci sta che in un periodo io so su e l'altra persona è giù ma non è che vivo quella cosa con senso di colpa con invidia e dico ok adesso è su io so giù e poi sarà magari sarebbe bello che viviamo un momento tutti noi in cui siamo su però questo però ammetto che sicuramente la cultura in cui viviamo ci può soprattutto appunto di religione di un determinato diciamo impronta ci può dare un humus un terreno che consente di anche inconsciamente ecco grazie per il contributo Nicola dice bravissimo non l'ho messo perché ha scritto bravissimo meravigliosa spedizione verissimo condivido tutto verena dice d'accordo per il godimento va tolto senso di colpa ma guardate io credo che il tema del piacere vada trattato prima o poi in una di queste serate in maniera molto tranquilla e aperta vediamo se avevo messo un'ultima cito o no ragazzi ho messo oscio ragazzi come non potevo mettere oscio e con questo andiamo con l'ultima cito in chiusura quando prendi molto sul serio il mondo quando prendi molto sul serio il mondo non puoi sapere cosa sia la felicità la felicità accade unicamente quando hai messo radici in una visione del mondo secondo la quale tutto non è altro che un gioco bravo zio oscio bravo zio oscio a zio oscio zio oscio senti l'ultima frase quando hai messo radici in una visione del mondo secondo la quale tutto tutto quindi non ho un po' non è che oscio dice un po' tutto non è altro che un gioco cioè qua livello di volare alto molto direi che direi che zio oscio cioè ce l'abbiamo zio oscio utilizza un misto secondo me un po' troppo forse sarà l'ora ma un po' troppo prolisso cioè poteva condensare ha prolissato meno parole cioè molto più nel dunque però tolta questa diciamo dettaglio condivido appieno anche le metafore che utilizza il gioco ma l'abbiamo attualizzato questa diretta che noi abbiamo fatto io l'ho presa come un gioco come un divertiamoci insieme cioè quello alla fine l'essere felici anche in qualche modo ridere scherzare l'altro ironia prendersi in giro e affrontando anche quello che può essere la paura del giudizio la paura di altre anni cose ma appunto vederla col sorriso ecco ecco fate sapere anche qui in chat chi ci sta seguendo se condividete o meno per favore questa dimensione del gioco ha detto adesso Bernardo che ha sottolineato se riconoscete qualcuno lo chiama appunto gli occhi del bambino quindi Francesca dice è vedere il mondo con gli occhi di un bambino ecco questo è un tema anche che torna tanto la purezza torna anche nei miti nei miti in cui si usano figure simboliche allegoriche il bambino rappresenta proprio la purezza con lo sguardo come dire incontaminato da tutta una serie di condizioni gli occhi del bambino sono quindi puri e riconoscono sanno ancora che la cioè non è così identificato con la vita che sa che è un gioco cioè si diverte all'interno della vita io su questo aspetto mi trovo spesso a dovermi monitorare perché è facile dimenticarsi un sacco un sacco facile prendere sul serio questo gioco un sacco un sacco un sacco ed è per me infatti il discorso dell'autoironia e del divertimento nasce tantissimo da questo cioè a me piace divertirmi metterla alla leggera certe volte può essere anche un eccesso può essere anche un eccesso io nel mio carattere lo vedo e quindi puoi anche cedere in un'eccessiva leggerezza che diventa poi anche un po' dai eccessiva però quando è pura quando è divina mettiamola così e cavolo trasformare la vita in un gioco vuol dire che il tuo potenziale si amplifica a mille perché tutte quelle barriere tutti quei limiti quei confini che nascono solo dalla paura di esporsi dalla paura di sbagliare dalla paura del giudizio perché paura del giudizio e paura di sbagliare è tanta roba quando tu rompi quello e la vita torna ad essere un gioco lì c'è il numero 10 da capocannoniere e adesso dai diciamo la tunica da supereroina o supereroe parte perché liberi completamente ma si boom e c'è un'esplosione di energia fantastica fantastica mi verrebbe da dire Bernardo annuisce che cosa posso aggiungere se tu pensi di queste parole che ti ho detto cosa posso aggiungere vediamo il nostro pubblico vediamo i nostri amici che ci sono con noi cosa dicono grazie dice allora giochiamo come abbiamo fatto stasera al lavoro e in famiglia io grazie condivido condivido io entello condivide quindi se condividi entello diciamo che possiamo solo essere accordo beh questa Carla dice forse gioco il posto dove abbiamo nascosto e torna aggiungi a miele citazioni per favore farà la nuova slide e farà la cita e Samuel dice idem conosco poco oscio ho detto qualcosa ma ho ancora tempo per approfondire la conoscenza dell'argomento sì anche Nicola diceva che non ha toccato troppo oscio ma gli è piaciuto così via è un come si dice il profeta dei oscio sono i sanniasi quelli che seguono oscio allora io vi dico due cose ho scelto sincronicamente queste aforismi queste frasi ce ne erano tantissimi prossima volta sicuramente metteremo anche qualche cosa di Falco che è l'ispiratore filosofo insomma ispiratore fondatore di Damanhur però ho scelto queste frasi per aiutarci a riflettere quindi questo gioco che abbiamo fatto adesso con le frasi con le cheat un po' come quello di prima ci porta a scambiare a confrontarci anche con visioni che aprono nuove logiche perché sappiamo che parte del gioco della vita è considerare non la verità come un fenomeno singolo ma considerarla come un insieme di verità quindi noi questo lo dico sia come Damanhuriano che come appassionato di studio di conoscenza quando contempliamo la vita come un insieme di verità quindi non esiste una sola verità la verità è un cristallo noi siamo dalle tante facce quindi c'è la verità di Bernardo di Entello di Carla di Samuel di Francesca di tutte le persone di Nicola tutte le persone che stanno seguendo e dall'unione dal confronto di queste verità di questi punti di vista e per questo che a me piace tanto creare lo scambio questa dinamica di confronto allora si riescono poi a toccare dei punti di universalità di magia di wow in cui la diversità prende una sua forma completamente anomala folle fuori dalle righe irrazionale completamente che stimola un sentimento di magia di originalità suprema di qualcosa che rompe come dire quel muro e ti fa toccare l'eternità ti fa toccare qualcosa di più ok io direi che questa mi fermo qui con la descrizione di questo cioè stiamo dando delle perle all'umanità che io no vado per favore torna al microfono allora no a parte gli scherzi siamo in chiusura come avete detto molti di voi questa serata nasce per divertirsi quindi sono contento che tanti di voi hanno scritto che si sono divertiti quindi abbiamo giocato abbiamo detto cose più leggere cose più profonde abbiamo visto un video abbiamo fatto i quiz insomma l'obiettivo di queste serate è proprio questo parlare apertamente di temi che ci toccano a tutti in una maniera più vicina fare sì che i commenti che arrivano da parte vostra siano al centro della conversazione e lo riproporremo questo format infatti vi chiedo anche se vi è piaciuto di scrivere qua in chat se lo riproponiamo vi piace partecipate è una cosa che vi ha gasato lo avete trovato utile sentite che vi ha portato insomma valore all'interno della vostra serata una serata anomala diversa perché l'idea è quella di dare continuità a questi momenti di divertimento fare arrivare altri ospiti oppure girare il link a Bernardo ogni tanto e far vederlo entrare sincronicamente in una serata e darci un voto alle prossime cheat perché abbiamo scoperto che ha un dono che è quello di dare i voti alle cheat e di cacciare perle incredibili ovviamente io sono partito con un ospite che considero appunto una persona a cui voglio un sacco bene con cui mi diverto e quindi ho scelto di partire con stile alla grande perché anch'io così mi sono sentito a mio agio nel sparare fuori questa questa novità questa cannonata allora viva 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 allora in chiusura io dico sempre e chiedo sempre una cosa lo chiedo a voi lo chiedo anche a Bernardo lo chiedo anche a me la teoria del cappello cosa significa ogni serata va chiusa si apre e si chiude quando si chiude qualcosa come un buon vino gli si mette il tappo e via quindi la bottiglia va ben conservata chiudiamo la serata chiudere la serata significa distillare dentro di noi dentro di sé cosa ci è più rimasto impresso cosa ci portiamo a casa quindi io vi chiedo di scrivere se siete ancora connessi e sopravvissuti in chat un semplice concetto frase che per voi vi è rimasta impresso il messaggio che più sentite è utile condividere con le altre persone che stanno ascoltando condividere a noi condividere come volete ma scrivete per voi qual è il concetto più importante che sentite di aver agganciato questa sera ok può essere una cheat può essere una frase può essere un ragionamento può essere una parola può essere qualsiasi cosa detto questo io non posso che non chieda al nostro super ospite cioè Bernardo dopo tutte queste cose che siamo detti dopo tutte le battute l'ironia la follia che abbiamo portato questa sera tu alla fine di questa diretta rispetto al tema felicità cosa come desideri chiudere cosa desideri dire in finale di questa serata una tua frase un concetto una tua cosa quello che ti viene spontaneamente come sempre spontaneamente un'una di preparata esatto io posso illuminare questa serata dicendo che è essere felici quindi questa sera sono stato bene perché abbiamo riso abbiamo stati insieme abbiamo parlato di cose profonde non superficiali non mi sono sentito giudicato per la mia inquadratura abbastanza pessima e colpicitamente pessime che nemmeno uno scabuzzino di Dakar avrebbe per cui ecco questo penso che e come dal punto di vista pratico invece mi porto dietro una metafora che ti ho utilizzato ma che mi è rimasta veramente quando si parlava del tema se i soldi facevano la felicità ci ho utilizzato la metafora del cibo non lo so perché mi è rimasta però questa metafora l'ho trovata potentissima è come quando uno mangia e c'è un momento in cui uno è pieno dice basta ma in qualche modo se vai oltre ti fa male e quindi in qualche modo questa cosa mi è rimasta non so il motivo magari è la metafora mi è piaciuta tanto e mi è rimasta e la rivenderò sappilo scusa quindi la divulgherò al mondo perché mi è rimasta e invece a te cosa ti porti a casa grazie aspetta aspetta un'ultima cosa oltre un'altra cosa che mi porta a casa è la bravura di Antel che veramente una capacità di conduzione di intrattenimento di coinvolgimento di quiz veramente complimenti e non lo dico perché ad esempio ti hai finito qui ma ci tengo invece a rimarcare perché so che come di lo voglio dire quindi ci tengo grazie grazie sono arrossito sono arrossito grazie grazie davvero allora cosa anch'io mi porto allora di base mi sono divertito un botto anch'io quindi felicità forse abbiamo dimostrato questa sera che è viverla creando scambio interazione confronto gioco divertimento quindi anche il fatto di giocare leggere le cheat insomma comunque crea scambio felicità leggerezza ci si confrontano si affrontano cose profondissime di cui uno potrebbe affrontare con la faccia tutta triste si affrontano con mi stava salendo dei Luigi in quel momento non so e non l'aveva affrontato con Gioia quindi questo top ripeto anche la scelta di avere Bernardo nella prima serata proprio perché sapevo e sentivo che è un'energia che a me mette a mio agio con cui mi diverto e che avrebbe portato questa frequenza e quindi sono contentissimo di averla fatta insieme la frase la cosa che in più mi porta appresso per me è è che la felicità è qualcosa di molto accessibile cosa voglio dire che la felicità posso farla cadere dentro di me cioè fortunatamente non ho bisogno di comprarla porca Eva ci devo comprare un sacco di cose e c'è e certe cose c'è i computer che ora sto usando io l'ho dovuto comprare però mi sono accorto questa sera che mi sono divertito mi sono lasciato andare mi ho fatto un po' di battute che questa cosa così preziosa che è la felicità l'ho trovata e l'ho manifestata mi è accaduta così cioè è arrivata e quindi mi ha fatto ricordare quando tu hai detto della passata col cane quando qualcuno ha scritto la passata nel bosco insomma che fondamentalmente questi sentimenti così belli sono vicini a noi sono vicini a noi non sono sullo scaffale di qualcosa non sono effettivamente così lontani anche se la cultura di cui sono parte mi porta tanto a vedere tutto come un acquisto io mi sento tanto dentro questa cultura in cui l'acquisto compulsivo comunque cavolo tutto è sempre in vendita cioè veramente è pazzesca questa cosa poi è giusto dare valore alle cose però in questo caso con la felicità ho toccato la consapevolezza che la felicità ce l'ho dentro cavolo stare bene fare cose che ti piacciono con persone che stimi con persone con cui stai bene connetterci così questa sera io dico foto voto a questa serata dieci più cioè bravo mi ricordo professor Bernardo diamo diciamolo diciamolo questa serata si mette a un dieci più più lo possiamo dire qui dire annunciare bello sono contento sono contento allora vedo anche che dalla chat scriveteci qui in chiusura anche voi come è andata se state bene se siete divertiti Samuel dice la serata di stasera mi ha portato felicità per rimanere a tema esperienze interessanti da rifare su altri argomenti e la consegnerai anche amici e parenti di partecipare bravo consigliala e contagiamoci anche ad avvocati vicini di casa ingegneri medicolante che vede la mattina esatto tutte le persone attorno a noi allora io direi che siamo in chiusura e chiudiamo qui questa serata grazie a tutti per aver partecipato in maniera così tanto attiva e grazie a super Bernardo per essere stato con noi questa sera tanta stima grazie a tutte le persone di Damanhur che collaborano per fare queste dirette perché in realtà c'è dietro il lavoro di un gruppo quindi insomma c'è un impegno il ciac il ciac come io dire lo vado a prendere è vero è vero vai 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 mentre io posso fare un no niente non faccio niente allora purtroppo non c'è scritto niente non c'è più non c'è scritto niente ma grazie Carla per averlo detto chiudiamo questa puntata quindi ringraziamo lo staff tutti le persone che ci hanno aiutato tutto il mondo che ha collaborato a questo incontro grazie Bernardo grazie a tutti voi ci vediamo sicuramente un prossimo appuntamento vi faremo sapere quando e come tramite i nostri canali sotto questo video trovate tutti i contatti di Damanhur io ho messo anche il profilo Instagram di Bernardo chi lo vuole conoscere allora Bernardo giusto due parole ha un canale YouTube bellissimo che vi condivido suggerisco di seguire perché è pieno di storie che ispirano e sicuramente con essa felicità grazie ti ha portato appena il bonifico di 50 euro grazie no lo dico davvero perché si fa un mazzo incredibile io fa un lavoro che è veramente impegnativo e queste storie valgono guarda sono bellissime guardate i suoi video perché spaccano sono veramente forti grazie a tutti voi ragazzi il Chuck siete pronti? è un vero Chuck quindi io ora chiudo dovevamo aprire la puntata con il Chuck ma noi siamo controcorrente noi siamo le pecore nere noi facciamo l'opposto di quello che ci dicono ci dicono di aprire il Chuck noi ci chiudiamo quindi prego noi ci chiudiamo con il Chuck vediamo se siete il suono andata e via puntata terminata grazie a tutti grazie a Bernardo grazie a tutti voi invitate i vostri amici ci vediamo alla prossima con voi buona serata con voi buonanotte alla prossima notte grazie a tutti